Quando mi occupo della vendita per un immobile, chiarisco fin da subito l'importanza di affidare un incarico esclusivo a un'agente immobiliare. Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Tonello, responsabile del punto vendita Giacasa di Finale Ligure e oggi ti spiegherò in pochi semplici punti perché è importante affidare il tuo immobile con un incarico esclusivo. Mettiti nei panni di un potenziale cliente acquirente, che vede il tuo immobile pubblicizzato da diverse agenzie immobiliari. Non pensi che possa ricevere immediatamente una svalutazione ai suoi occhi? Svalutazione è soprattutto confusione, specialmente se viene pubblicato a prezzi diversi. Un potenziale cliente acquirente ha bisogno di sentirsi tutelato e di conseguenza ha la necessità di affidarsi a un professionista che gestisca interamente l'immobile. E lo stesso deve valere per te, gentile proprietario. Il contratto in esclusiva è proprio lo strumento con cui valorizzi e tuteli il tuo bene e ora ti spiego il perché. Punto numero uno, ti garantisci un unico referente a cui fare affidamento e che dia il 100% per la promozione del tuo immobile. Ed elemento da non sottovalutare, eviti il passaggio di chiavi da un ufficio all'altro. Punto numero due, avere un unico punto di riferimento ti garantisce la possibilità di studiare una strategia insieme, personalizzata per raggiungere il più velocemente possibile i tuoi obiettivi, cosa molto difficile se non impossibile da attuare con più referenti in modo non esclusivo. Punto numero tre, un'agenzia immobiliare consapevole di essere l'unica incaricata si sbilancerà in investimenti pubblicitari spesso molto onerosi che altrimenti non farebbe, che ti garantiranno una visibilità pazzesca e di conseguenza maggiori risultati. Spero che questo video ti sia stato utile, se vuoi saperne di più mi trovi nell'ufficio Agecasa in Vico Tubino 18 Finale Ligure oppure qui sotto trovi i miei contatti.